Musica Possiamo andare avanti, le domande sono state di interesse, bravissimo relatore. Adesso abbiamo Francesca Galeazzi che ci parla della pH in pedenziometria nella malattia del flusso gastroesofagio, quando e come e perché. E poi c'è una domanda da Accademia dei Lincei, talvolta vedo scritto in pedenziio e qualche volta trovo scritto in pedenzò. Anche nelle diapositive abbiamo visto una varietà di interpretazioni, grazie per la risposta. Grazie per l'invito, innanzitutto grazie professor Corazziari, grazie dottor Tamaro. E proverò a rispondere a queste tre domande, anche io qualche refuso ce l'ho effettivamente. Riparto dal quadro clinico, esemplificato dovrei dire dalla classificazione di Montreal in due grosse sindromi, esofagea ed extraesofagea, di cui si è già parlato. Tuttavia, quello che poi vediamo nella pratica clinica quotidiana, in realtà è una presentazione un po' diversa del paziente, che giunge da noi con alcuni sintomi definiti dal sospetto reflusso. E alcuni come la pirosi e il rigurgito sono dei sintomi tipici, con i quali potremmo fare anche una diagnosi clinica, se non ci sono elementi di allarme. Altri però sono dei sospetti posti molto spesso da specialisti non gastroenterologi, in cui iniziare un work-up diagnostico può essere veramente difficile. O dei sintomi singoli o dei quadri sindromici. Quindi rovescio un pochino le domande e inizierei dal perché. Perché decidere di fare non tanto la sola impedenziometria, ma uno studio fisiopatologico dell'esofago. E riparto da dove ha finito il dottor Ferrara. Perché quando un paziente con sospetta malattia da reflusso viene a fare un'endoscopia, nella maggior parte dei casi arriviamo al 60 e oltre per cento, si conclude per una NERD, non erosive reflux disease, che vedremo in quest'ambito e a questo punto del work-up diagnostico, è una definizione non correttissima. 35% vediamo già l'esofagite e qui la diagnosi è fatta. 5% troviamo già complicazioni e qui la diagnosi è fatta. Ma questo 60% e più pone una domanda fondamentale. È in gioco l'acido o altro? Che cos'hanno questi pazienti? Ed è qui che da tantissimi anni cerchiamo di fare uno studio, di studiarli dal punto di vista fisiopatologico. Inizialmente con la pH-metria, quindi una sondina inserita, un catetere inserito per via transnasale, che può monitorare per 24 ore il pH gastrico, il pH esofageo addirittura in più punti, e che dava un tracciato di questo tipo. Quindi 5 cm sopra il cardiac, vediamo, la presenza di cadute del pH è lentamente riportato a pH neutro o tendenzialmente alcalino. E in questo particolare paziente con dei reflussi anche hanno un monitoraggio più prossimale, quindi 20 cm sopra il cardiac. Più recentemente, ormai però parliamo del gold standard, è stata introdotta a questa tecnica una tecnologia ancora più avanzata, perché oltre ai sensori per pH, questi cateteri hanno degli elettrodi metallici che conducono la corrente, diciamo così, in modo tale sono in grado di misurare la resistenza alla conduzione di questa corrente, quindi l'impedenza. E chiaramente verrà modificata dal contenuto dell'esofago, per cui se nell'esofago c'è del liquido, l'impedenza crollerà perché il liquido è un buon conduttore. E accorciando una lunga storia, vediamo degli esempi tipici. C'è una caduta, questo è un tracciato di impedenziometria esemplificato, in alto la parte prossimale dell'esofago, in basso la parte distale. Chiaramente se c'è una caduta di impedenza che progredisce in senso antiperistaltico, possiamo parlare di reflusso, in questo caso è associata ad un crollo del pH sotto 4, quindi è un reflusso acido. In quest'altro pannello il crollo del pH non raggiunge la pH 4, quindi nella definizione fisiopatologica è un reflusso che è debolmente acido. Quindi questa nuova tecnica, relativamente nuova ormai, ha la possibilità rispetto alla tradizionale pH metria di valutare anche i reflussi non acidi, i reflussi e il contenuto del reflusso. Che cosa ha cambiato tutto questo? E sta ancora cambiando. E questo è un caposaldo, un lavoro di Edoardo Savarino che ha ormai qualche anno, però ha consentito di completare la classificazione della NERD. Sotto in questo 60% in realtà abbiamo pazienti che effettivamente hanno un'esposizione patologica dell'esofago all'acido e sono il 40%. Pazienti che hanno un'esposizione dell'esofago all'acido normale, ma hanno una forte associazione con i sintomi. Durante questi esami il paziente ha dei marcatori e può registrare i suoi sintomi. La correlazione temporale ci dice se il reflusso è correlato al sintomo. Pazienti in cui l'esofago è molto sensibile, quindi vi è un'associazione con i sintomi, ma l'esposizione all'acido è normale. Ed infine i pazienti con pirosi funzionale, in cui l'acido sembra non, o il non acido, non svolgere alcun ruolo. E questa sottoclassificazione dei pazienti da un punto di vista poi dell'applicazione clinica dovrebbe corrispondere a questo. Quindi se c'è l'acido, se l'acido è coinvolto, ne parlerà poi il professor Scarpignato, io lo accenno solo, la risposta ai PPI dovrebbe essere, all'antisecrezione dovrebbe essere buona. Mentre dovrebbe essere incerto, addirittura assente, se siamo in quadri in cui l'acido assolutamente non è coinvolto dal punto di vista fisiopatologico. E quindi questo è il nuovo scenario. Le vere NERD sono una quarantina per cento e entrano in gioco delle altre entità fisiopatologiche. Passando al lato destro della classificazione di Montreal, entriamo nell'ambito scivoloso delle sindrome extraesofagee. Quindi quel corteo di sintomi imputato a una teoria del reflusso prossimale oppure addirittura a un riflesso innescato dalla presenza di materiale nell'esofago. E qui sicuramente la pH in pedenziometria aggiunge qualcosa di molto importante alla nostra diagnosi. Anche qui se l'acido è l'elemento fisiopatologico importante, allora i pazienti dovrebbero rispondere al PPI, ma a questo dobbiamo aggiungere molti punti di domanda. Ed infatti in questi sintomi, la raucedine, la tosse cronica, fino ad arrivare al dolore toracico, la risposta al PPI, il guadagno terapeutico, non è così importante come invece nelle forme di esofagite erosiva. Nella tosse da reflusso, questa è una Cochrane di qualche anno fa, vi ha un leggero vantaggio, ma la significatività non è così importante. E perché una possibile spiegazione ce la dà proprio la pH in pedenziometria. Chi ha lavorato molto su questo è Sifrim e ci ha spiegato che se associamo alla pH in pedenziometria anche una rilevazione manometrica, quindi delle pressioni, possiamo capire quando avviene la tosse. In questa sequenza è molto bello vedere come dopo 80 secondi da un reflusso debolmente acido, insorge un episodio di tosse. Quindi si insorge entro due minuti, quindi effettivamente questa è una sequenza reflusso-tosse. Ma quello che è più difficile, che non ci aspettiamo, è che il contrario può accadere. Dopo un episodio di tosse, dopo pochi secondi, si associa un episodio di reflusso debolmente acido. L'episodio di tosse aumenta la pressione intraddominale e può effettivamente licitare un episodio di reflusso. Ecco che, tornando alla gestione del paziente, in questo studio dello scorso anno, su 129 pazienti con tosse cronica, solo in un quarto è stato stabilito una relazione netta, la sequenza reflusso-tosse e non il contrario. E, guarda caso, in questi pazienti erano già presenti sintomi tipici e un'esposizione patologica all'acido. Quindi era una diagnosi di malattia da reflusso su cui ci si poteva basare anche in base alla sintomatologia clinica. Un bellissimo studio è stato fatto da Nicola De Bortoli il quale ha visto, riassumendovi, che i segni di laringite posteriore sono presenti in più dell'80% degli individui asintomatici. E che comunque, se studiamo questi pazienti con pH in penenziometria, la diagnosi di malattia da reflusso è inferiore nel 40% dei pazienti con laringite posteriore. Vale a dire, la presenza di segni obiettivi di laringite da reflusso non cambia, in realtà non correla con la presenza di reflusso patologico. e il reflusso patologico non correla con la presenza di sintomi attribuibili alla laringite posteriore. Seconda domanda, come eseguiamo questo esame? Abbiamo capito, spero di aver convinto che è un esame che ha delle motivazioni, come lo eseguiamo? Innanzitutto dovrei dire come organizziamo uno studio fisiopatologico dell'esofago. La piacca in penenziometria va sempre associata alla manometria esofagea. A sinistra è un tracciato di manometria tradizionale, quindi in alto l'esofago prossimale è il faringe e progredendo, in ascisse del tempo, progredendo verso il basso lo sfintare esofageo inferiore. Quindi questa è una normale attività peristaltica dell'esofago e l'apertura dello sfintare esofageo inferiore. Questa tecnologia viene sempre più soppiantata dalla manometria esofagea ad alta risoluzione in cui da otto rilevatori siamo passati a più di trenta e quindi con la possibilità di plottare un'immagine, quindi di mappare le pressioni dell'esofago in modo molto molto preciso. In alto lo sfintare esofageo superiore e il suo rilasciamento, la contrazione dell'esofago prossimale, quindi striato, un'area di transizione e poi la contrazione dell'esofago medio distale. Questa barretta in verde e in basso è lo sfintare esofageo inferiore che cala di pressione all'arrivo dell'onda motoria. Questo esame ci consente quindi, ed è necessario per due cose, più di due, per identificare lo sfintare esofageo inferiore e quindi posizionare correttamente il catetere da impedenziometria. Per eseguire una diagnosi differenziale, come ci diceva prima il dottor Ferrara, ci sono molte condizioni in cui può essere mimato o sospettato una malattia da reflusso, però per esempio la stessa calasia può presentarsi con una pirosi poco trattabile, sindromi da ruminazione, quindi è un esame necessario. Non solo, è l'esame più importante che ci consente di evidenziare la presenza di ernia iatale, perché in caso di presenza di ernia iatale vedremmo sotto questa righina verde un'altra area di aumentata pressione che corrisponde ai pilastri diaframmatici che quindi sono più bassi rispetto allo sfintare e consente quindi di misurarla in modo preciso e specifico con una definizione di due centimetri come cut-off. Eseguita la manometria esofagea, che è un esame ambulatoriale della durata di 20 minuti e troppo, 15 minuti con le nuove tecniche, è diventato veramente molto molto più rapido, procediamo per la piacca in pedenziometria. Il paziente ha digiuno, gli inibitori di pompa vanno sospesi, da noi vengono sospesi per 15 giorni almeno. È preceduta dalla manometria, quindi il primo sensore è posizionato 5 centimetri prossimamente allo sfintare esofagea inferiore. Il paziente deve tenere un diario dei sintomi, dei pasti, dei cambi di posizione, da orto e clinostatismo. Questo è molto importante per l'interpretazione del dato. La durata è di 24 ore, dopodiché il paziente tornerà in ambulatorio e per la rimozione del catetere. È un esame che può essere condotto a domicilio. E senza entrare nel dettaglio vi mostro alcuni dati. Vediamo qui un reflusso con una debole acidificazione del pH associato a un sintomo e qui una caduta dell'impedenza con una acidificazione sotto 4 associata al sintomo. Qui in maggiore dettaglio la possibilità di evidenziare un reflusso non solo nell'esofago distale ma la possibilità di misurare il pH anche all'esofago prossimale e in questo caso nell'ultimo pannello con una evidenza di un reflusso protratto e prolungato fino all'esofago prossimale. L'analisi è abbastanza complessa però valutiamo l'esposizione totale all'acido che risulta essere un pochino più efficace dello score di Demister che viene utilizzato tuttora ma per la pH metria che aveva una elaborazione anche del reflusso più lungo dei reflusi più lunghi di 5 minuti del numero totale di reflusi. Importantissima sono gli sistemi di scoring per la correlazione con i sintomi. La cosa più sfortunata che può accadere è che il paziente resti asintomatico durante l'esame. Purtroppo accade spesso però non entro nel dettaglio di questi scoring system però sono effettivamente preziosissimi. E poi dei parametri di più recente valutazione e introduzione che sono, devo dire, è il frutto di ricerca veramente italiana Frazzoni, Savarino, De Bortoli si è visto che dopo un episodio di reflusso c'è un riflesso peristaltico indotto quindi viene licitata una peristalsi che in realtà sembra essere ridotta nella malattia del reflusso rispetto ai controlli. E ancora un altro parametro è la impedenza basale. La capacità della mucosa esofagea di avere una resistenza alla conduzione dello stimolo eletto di un impulso, di una corrente è un indice di integrità mucosa e quindi anche questo parametro entrerà sempre di più nella capacità di studiare la fisiologia e la fisiopatologia dell'esofago. Tanto è vero che adesso stanno facendo delle sondine per misurare questo parametro per via endoscopica in modo puntuale. Senza entrare in questi dettagli quando eseguiamo lo studio fisiopatologico dell'esofago in che momento del work-up diagnostico. Non vi mostro le linee guidate ma vi mostro il risultato di un consensus internazionale sui massimi esperti mondiali in questo ambito. Le indicazioni per il monitoraggio del reflusso ambulatoriale quindi piaca e impedenziometria sono la malattia da reflusso resistente a terapia antisecretiva la documentazione o l'esclusione della malattia da reflusso in presenza di sintomi atipici lo studio chirurgico non è possibile arrivare a una chirurgia antireflusso ma anche a procedure endoscopiche antireflusso importanti senza uno studio fisiopatologico precedente la diagnosi nel sospetto di pirosi funzionali o sindromi per esempio da ruminazione e sicuramente nel follow up post chirurgico. Se vogliamo incasellare questi esami nella gestione complessa dei nostri pazienti possiamo proporre questo nel sospetto di malattia da reflusso va sicuramente individuata la presenza o meno di sintomi di allarme o di sintomi tipici e lo studio endoscopico abbiamo già visto è il primo passo. In assenza di sintomi di allarme o di fattori di rischio si può pensare ad un tentativo empirico con PPI ma se non c'è evidenza di reflusso o se il tentativo con PPI fallisce è necessario arrivare allo studio fisiopatologico. Eseguiremo la pH impedenziometria in genere dopo aver sospeso i PPI abbiamo visto proprio perché nella maggior parte dei casi questo esame ci serve per effettuare la diagnosi di reflusso. Sono pazienti in cui vi è il sospetto di reflusso quindi è necessario avere un quadro pulito quindi facciamo sospendere i PPI. L'unico caso in cui si può eseguire in corso di terapia con PPI è quando siamo incerti sulla risposta terapeutica in una diagnosi però già fatta. eseguito questo esame possiamo riclassificare i pazienti e quindi capire se effettivamente c'è evidenza di reflusso e quindi modificheremo la terapia in questo senso oppure se dobbiamo entrare in altri ambiti quali quelli di disturbi funzionali funzionali puri o quindi percettivi anche o disturbi motori. E con questo io passo all'ultima diapositiva veramente di riassunto quindi è un esame che ci serve per valutare la presenza e il contenuto del reflusso per stabilire l'associazione tra reflussi e sintomatologia. Non è un esame di primo livello ma entra in gioco dopo un tentativo terapeutico e dopo lo studio endoscopico. Va sempre associato alla manometria esofagea anche la manometria stazionaria tradizionale proprio perché è il risultato delle due metodiche che ci dà le migliori informazioni per la gestione del paziente. Con questo vi ringrazio per l'attenzione. grazie. Grazie. Grazie.